Noi ne prendiamo un'altra domani, un'altra di queste che vanno a 3.000 metri. Sì, sì, carino. Ho usato un pari di problemi prima. Dio spiega a tutti. Queste robe qua vanno con un certo modo e abbiamo un'accelerazione molto progressiva. Invece adesso viene una strappia, ha dondolato molto e probabilmente siccome erano in tanti va tutto sotto, è quello che ci ha dato problemi. C'era un'altra cosa. Andare a rate. Andare a rate, che se frega, 10 e 9 volte. E' una matematica pura, se c'è più gente c'è più diversa. 40 persone, 3.000 kg. Un'altra. No, 3.000 persone, ma, non c'è più... ... Un'altra. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info